e ciao a tutti amici amici di inside two games benvenuti in un nuovo video oggi raga vi porto non so se l'audio si senta io chiedo scusa innanzitutto per la voce ma purtroppo raga chi mi segue anche su instagram anzi se volete seguirmi vi lascio tutti i link in descrizione chi mi segue lo sa purtroppo ho problemi con la gola e sono ormai quasi una settimana che ho la voce così quindi scusatemi per la voce io vi dico già inizierò il death match siamo su call of duty mobile sul mio cellulare con i settaggi e la grafica al massimo quindi molto alta e raga vediamo un po come si comporta infatti mi dice tocca per iniziare perché devo fare ancora la mia primissima partita su questo dispositivo con i settaggi a molto alto e vediamo un po come si comporta vi dico già raga senza che sto lì a parlare nel death match facciamo il death match e poi dopo tiriamo le conclusioni a fine death match ok vi voglio ricordare di iscrivervi al canale lasciare un bel pollicione all'insù attivate attivate la campanella mi raccomando raga guardate tutto il video condividete il video e seguitemi su instagram i link in descrizione ok raga noi ci becchiamo dopo il death match vi voglio ricordare di iscrivervi al canale vi voglio ricordare di iscrivervi al canale vi voglio ricordare di iscrivervi al canale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene raga, adesso è finita già la prima partita, però io faccio una bella cosa, ne aziono subito un'altra, così da poter portarvi più match. Oddio raga, io devo dire la verità, cioè io è vero che ho tantissima esperienza sul gioco normale, cioè su console, su pc eccetera, però vedo che altri sono molto molto scarsini. Adesso io non so perché magari questa era una partita contro il bot, non credo, cioè contro il computer, la cpu, non credo, però dai ne abbiamo un'altra così da poter, diciamo, vedere. Magari questa era la prima, la primissima partita. Ok raga, qui ci fa inserire le gradate e tutto. Ok. Vabbè ovviamente qui tutte cose raga che l'equipaggiamento, vediamo un po' raga. Ok, abbiamo anche inserito la granata, vediamo un po', ci fa cambiare arma, no la potenziamo, ok. Facciamo potenzia, ok, potenzia 100%, ok raga, abbiamo anche, stiamo anche inserendo tutte ste novità raga, vediamo un po', ok. Ok, ok raga, io vorrei sinceramente fare solo un'altra partita invece di farvi telecomandare dal gioco. Ok, ah ok, finalmente raga, ok, vediamo un po', sì, dove andiamo sul personaggio, equipaggiamento, vediamo un po' se riusciamo anche, ah si sblocca il livello 3, ok, va bene raga, allora facciamo una bellissima cosa raga. Ci buttiamo subito nel multi di nuovo, ok, come sempre raga, lasciate tanti bei pollici all'insù, io raga mi risparmio la voce per salutarvi dopo, ok, in attesa di un altro giocatore, purtroppo raga siamo sulla stessa mappa, Io vedo se esco raga, vabbè, no raga esco per vedere se magari riesco a portarvi un'altra mappa piuttosto che giocare sulla stessa mappa, perché ho visto che ci sono tante altre mappe. Facciamo il team deathmatch, ok, ok raga, iniziamo, ho anche messo il team deathmatch raga, Ok raga, nuova mappa, ok, come sempre raga io mi risparmio un po' la voce, mi concentro e niente, adesso vediamo un po' come va, ok, 3, 2, 1, andiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti